Buonasera a tutti, mi hanno già presentato Carmine Lugliani, attivista notrino, Gesualdino Doc, e si sa pure che in quel di Gesualdo c'è questa bella intenzione di mettere in piedi un polso regionifero a 50 metri alle scuole, quindi certamente non stiamo parlando di salubrità, anzi tutta altra cosa. Io mi voglio soffermare a parlare della questione del referendum, chiaramente noi qui stiamo toccando dei temi che sono importantissimi, acqua, terra e aria, gli elementi basitati per una buona vita, ma credo sia importante in questo momento parlare di referendum, perché il referendum in un certo qual modo riesce ad accorpare insieme tutte queste problematiche. Come fa se noi stiamo parlando di un referendum che riguarda le liberazioni a mano? È semplice, perché questo è un referendum di per sé, è un referendum politico, è un referendum politico perché noi mettiamo in discussione di quella che è la strategia energetica nazionale, già stato detto da Roberto che mi ha preceduto, la mettiamo in discussione perché chiaramente non si può pensare che oggi si possa ancora pensare di attingere energia da punti fossili. Non si può pensare di livellare un'intera nazione, non si può pensare di livellare un'intera umana solo per far comodo alle lotti del per sé. È un referendum politico perché mette in discussione l'operato di questo governo e di quelli che lo hanno preceduto. Bisogna essere. Ora, noi possiamo fare la differenza, oggi siamo in grado di fare la differenza. Perché poi alla fine di tutti, perché i quattro comitatini di cui parlava Renzi, non molti secoli fa, insomma, dovevano andare indietro di un anno, un anno e mezzo, insomma, quando ci disse che eravamo quattro sbandati e quattro comitatini, insomma, quei quattro comitatini sono stati in grado di muovere, di spostare una montagna, poi sostanzialmente. Perché poi alla fine, se le regioni sono arrivate a volerle o a doverle deliberare, è perché c'è stata una grandissima pressione che a partire da punti le realtà territoriali hanno fatto la differenza. Così come l'hanno fatta in Irpinia, e la continuano a fare, l'hanno fatto per tutto lo stivale d'Italia. Il 17 di aprile, allora, il referendum si va a votare su un unico quesito, un quesito di per sé tecnico che ci parla delle 12 miglia marine e ci parla della durata dei giacimenti petroliferi a mare. Ma noi dobbiamo declinare la questione in maniera diversa, perché guai a dire è un referendum che riguarda esclusivamente le coste e che riguarda esclusivamente il mare. È chiaro che da buon italiano, l'ho già detto altre volte e non mi stancherò mai di dirlo, l'italiano risponderà in questa maniera. Ma che vuoi che mi riferisco, se poi riguarda solo quella parte d'Italia? Dice no, riguarda un intero assetto, cioè energetico come dicevo appunto prima. C'è stato un primo altro esabotaggio, quello di oggi, perché poi non si respira. Tecnicamente non si respira e quindi diventa difficile. Lo sappiamo bene che è un'impresa arco, è un'impresa difficilissima, è riuscita a raggiungere il forum, ma noi ci crediamo, noi ci crediamo fermamente, ci crediamo come comunità di Motrip, ci crediamo come i cittadini irpini, ci crediamo come i cittadini italiani. Ora la questione qual è? Il buon Renzi ha pensato bene, usando un francesismo, di metterci in un cult esatto. Sostanzialmente ci ha messo nel fondo. Dice voi avete voluto il referendum, io ve l'ho dato e ve l'ho dato il 17 di aprile. Certamente non ve l'ho dato insieme al election day, perché chiaramente se fosse stato così il forum era un qualcosa di per sé già certo. Ora a questo punto noi ci giochiamo tutta la nostra credibilità. No, la sostanza è quella, io la leggo in questi termini, i comitati non avranno più nessuna prova davvero. Una volta che il referendum darà un risultato di per sé negativo, siamo tutti e con noi tutti i cittadini italiani. Ma insieme a noi saranno tra virgolette fregati e mi riferisco all'Irpiglia in questo momento, tutta quella politica, stiamo parlando di partiti politici che a vario titolo si sono detti nutri, partendo dal PT ad arrivare all'estrema sinistra. Quindi voglio dire che da questo punto di vista nessuno è esente da responsabilità. Che cosa significa responsabilità? I comitati lavoreranno e come se lavoreremo? Cercheremo di fare il massimo, come diceva Verderosa, andremo porta a porta a chiedere il punto, ma i partiti chiaramente non si possono esentare da questo tipo di responsabilità. Questo significa che chi in consiglio regionale ha messo in piedi quell'ordine del giorno che poi è stato il decimo, il nodo, quello che è stato rispetto alla richiesta referendaria, oggi ci deve mettere la faccia. Mettere la faccia significa sostanzialmente bisogna attingere al bacino elettorale di proprietà e da questo punto di vista noi già, Roberto l'aveva preso certo già, noi ci siamo visti ieri in quel di Salerno e abbiamo deciso, tra le altre cose, di portare all'attenzione del consiglio regionale, quindi del presidente, la presidenta del consiglio regionale di Rosetta D'Ameria, questo tipo di istante. Questo significa sostanzialmente andare a parlare con questi soggetti e dirvi chiaramente a questo punto muovete un attimino il vostro corpo per non dire altro e cerchiamo di portare un risultato utile, un risultato utile per tutti, per tutti. Non avremo prove d'appello, l'impinio da questo punto di vista non può essere considerata come quella che prima platena, canta, parla e sparla e poi alla fine, quando si tratta di assumersi responsabilità, di metterci la faccia, si gira dall'alto. Noi siamo convinti che questo non accadrà, anche perché oggi la politica si gioca tutta ancora, non ci sono prove d'appello. Ripeto, noi lavoreremo per quello che si può, però è un lavoro collettivo. Un'altra cosa a cui tengo, sì, un venuto solo e finisco, da troppo i tempi erano quelli, sono quelli che sono, insomma. Non mi voglio soffermare sulle altre due questioni, giusto una cosa, la questione dell'acqua, bisogna ripetere questo, insomma, in termini nezzospetti, noi abbiamo più modo da ragionare la questione dell'alto calore semizio e sull'alto calore per il vostro, perché ormai è andata a finire nel dimenticatoio, può darsi pure che, per un discorso di compensazione debiti e crediti, poi alla fine si rivelano, può darsi pure che alcuni comuni non hanno colpo neanche di più, però bisogna puntare l'indice su chi ha ritenuto di dover mantenere per diverso tempo, anzi per tanto tempo, uno sbembramento voluto dell'alto calore in queste due. Chiaramente a questo punto, se abbiamo il deficit che abbiamo, non è un caso, perché se io mi occupo dei servizi, tu ti occupo del pandemogno all'interno di quel calderone, ci vanno tutti i droppati della politica, o i furbetti della politica, perché è così, ma alla fine il risultato che abbiamo è un risultato dell'alto oggettivo e su cui non si può dire nulla, perché è il sistema che ha creato questo tipo di assetto, allora abbiamo la possibilità oggi di capire, oggi i comitati possono fare la differenza e finisco, la possono fare sulla questione petrolio con l'impegno costante e collettivo, la possono fare sulla questione dell'acqua con l'impegno costante e collettivo, la possono fare sulla questione dell'eolico. L'eolico chiaramente, io mi ricordo e finisco un minuto e trenta secondi per dire questo, negli anni 90 quando iniziavano i miei parchi in cui il di Pisaccia, erano un po' tutti contenti, i parchi sperimentali che per la cosa, chi sa quale vantaggio ha prima, poi col tempo ci si è reso conto realmente di quello che è, e c'è stato, e c'è stato quello che c'è stato, ma c'è stato quello che c'è stato, perché a volte, stiamo parlando della regione Campania, hanno dormito, non possiamo pensare che un PER, un piano energetico ambientale regionale sia chiuso di incassare in un cassetto dal 2010 e mancava l'ultimo passaggio, approvato in giunto, mancava il passaggio in consiglio regionale, a questo punto ben vengono tutte le emozioni del mondo, ma che si arrivi una buona volta con sincerità e con franchezza a mettere mano al PER, perché il PER può limitare i danni derivanti da petrolio o con esse, i danni derivanti da eolico o moltissimo, può dare la ragione di esistere al progetto pilota, può dare tanta possibilità di sviluppo a questi sviluppo. Grazie. 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 Grazie.